Ciao a tutti sono Teninati, benvenuti su un altro video, oggi parliamo di Sergio Oliva Sergio Oliva ha pubblicato su sua pagina Instagram un video di allenamento anche un po' di foto dove lui si fa vedere le sue condizioni e lui ha detto che è tre settimane fuori di una gara però su questo post che ha pubblicato su Instagram ha detto se deve succedere, succederà quindi secondo me lui ha ancora un problema per quello caso lì di quel ragazzo lì che ha fatto incidente con lui che purtroppo il ragazzo è mancato quindi secondo me Dubai non lo fa andare via perché questa gara che lui sta preparando la cosa ha detto che tre settimane fuori sarà la gara a Sud America forse a Brasile e questa gara sarà 15-16 aprile quindi più o meno mancano tre settimane spero che lui riesce ad aggiustare con tutto questo problema lì a Dubai forse per questa brutta notizia, questo brutto incidente lui non riesce a uscire da Dubai perché magari c'è ancora investigazioni eccetera perché io sono un gran fan di fisico di Sergio Oliva anche sono un gran fan di sua storia perché è un figlio di un ex mister Olimpia e lui sta facendo anche la stessa cosa che ha fatto suo papà e ha avuto anche successo perché su altri gara si è piazzato benissimo anche ha vinto un sacco di gare però ultimamente sta avendo un po' di questi problemi però spero che riesce ad aggiustare tutto così lo vedremo sul pacco di nuovo non terminate, ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale se vuoi notizia come questo vediamo, let's go! iscrivetevi al canale